FESTIVAL DI BERLINO Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema! Vediamo insieme le notizie di oggi! Dopo la sua presentazione in Italia, Shutter Island è pronto per il Festival di Berlino. Martin Scorsese ha parlato con entusiasmo del suo film a Roma. Ma a Berlino ora potrà ritrovare consensi in sala. Shutter Island è tratto dall'omonimo thriller di Dennis Leanne, protagonista è Teddy, Leonardo DiCaprio, agente federale che si appresta all'isola di Shutter per indagare sulla scomparsa di Rachel. The Greatest Muppet Movie of All Time è il titolo del simpaticissimo film tratto dalla banda dai Muppets. Kermit, Miss Piggy, Gonzo e compagni sono in procinto di passare al cinema grazie da Walt Disney. I produttori cominceranno le riprese entro l'estate. I Muppets devono salvare il loro show da un editore senza scrupoli. Per farlo devono mettere in scena uno spettacolo che attiri l'attenzione di almeno 10 milioni di spettatori. Dopo Antichrist, Lars von Drier tornerà al cinema cercando di nuovo di cambiare genere. Nel prossimo film Planet Melancolia si cimenterà con il genere catastrofico, la Terra in pericolo per una collisione con un altro pianeta. Planet Melancolia dispone di un budget di 7 milioni di dollari, cifra irrisoria se adattata al disaster movie. Il cast ancora da definire e per ora pare sia stata coinvolta a Penelope Cruz. E questo è tutto, vi lascio con il trailer di oggi. Sì cosa stai? Sì. 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 I'm an old lady, it's a tragedy when it's somebody young And I've been lucky Cancer is not lucky Okay, before the cancer You've got a handsome boy there Thank you, Andra It's the truth But he's very short Grandma That's good, otherwise he would never go for you if he was tall Becca is a lovely girl And I'm sure a lot of boys notice her What did I say? I didn't say anything Sure How's your sandwich, Grandma? Mine's not good, mine's bad Oh, okay, well, mine's good, you want some of mine? You want some of mine? No, yours looks bad too For today's all, bye to the next episode of Anteprima Cinema Thank you Grazie a tutti.